Quello che Ubi aveva poi detto con le istituzioni è stato poi completamente azzerato per cui non c'è stato poi di nuovo un nuovo incontro per riconfermare poi quali sono le loro intenzioni perché poi l'azienda dice giustamente che il futuro è legato anche all'affitto dei locali. Sono ancora 18 i lavoratori della sede a rettina della Memar il cui destino è ancora da scrivere. L'azienda era partner di Banca Etruria per le lavorazioni di data management e archiviazione delle operazioni bancarie ma dopo l'acquisizione da parte di Ubi questi servizi sono stati esternalizzati. Soltanto 4 o 5 i lavoratori che a settimana portano avanti le commesse di altri 3 piccoli clienti. Il prossimo 30 di giugno terminerà il fondo integrativo speciale che fino ad ora ha assicurato uno stipendio seppur minimo ai lavoratori. Lo scenario è un ipotetico trasferimento nelle sedi di Bologna o Roma. Chiaramente non ha senso anche perché le distanze delle filiali sono superiori a 50 km non sono distanze comunque sia fattibili insomma e comunque non sarebbe per tutti. Al momento ecco dall'azienda non sappiamo niente anche perché abbiamo un prossimo tavolo sindacale il 30 maggio con l'azienda ad oggi non ci sono notizie né da parte di Ubi né da parte dell'azienda né da parte delle istituzioni alle quali c'eravamo rivolti all'inizio di tutta questa vicenda l'interessamento iniziale c'era stato poi non è successo più niente.